Ed eccoci arrivati a Palermo nella prima data outdoor del Gioia Tour dei Modà, si prevede quindi anche per questa sera una grande ondata di emozioni soprattutto per quei fortunati clienti Vodafone che cliccando la pagina Facebook di Vodafone Unlimited hanno vinto, ha la possibilità di incontrare da vicino i propri artisti preferiti, quindi fare un meet and greet con in questo caso i Modà e B la possibilità di vivere il concerto da dietro le quinte, quindi fare un giro molto suggestivo nel backstage che è poi esattamente dove mi trovo io in questo momento. Scusate ma io dico che cosa c'è di più bello per un fan, quindi per un fan di un gruppo, di un artista, se non incontrare il gruppo o l'artista poterci scambiare delle parole, fare una foto, prendere un autografo, voglio dire penso sia in assoluto il massimo. Vodafone Unlimited vi dà questa possibilità, cliccate la pagina Facebook di Vodafone Unlimited ed è potreste vincere il meet and greet. Vodafone Unlimited Vodafone Unlimited A quest'ora arriva ufficialmente il momento dei saluti e dei ringraziamenti, allora il primo grazie va sicuramente ai Modà con i quali abbiamo vissuto delle serate bellissime, il secondo grazie va a tutti voi che cliccate la pagina Facebook di Vodafone Unlimited, vi do un consiglio, continuate a farlo perché le sorprese non finiscono qui.